Stai preparando anche tu un concorso e solitamente chi prepara un concorso è una persona adulta che ha poco tempo a disposizione perché ha già un lavoro, probabilmente anche famiglia e quindi non può permettersi di sprecare troppo tempo. Anche perché la preparazione di un concorso non è come quando sono alle scuole superiori, dove ho il liceo, dove oggi memorizzo un'informazione, oggi imparo, studio un'informazione, domani un'interrogazione, funziona, però dopo dieci giorni, quindici giorni, un mese, quello che memorizzavi da piccolo, di quello che memorizzavi, quanto ricordavi nel tempo. Non posso permettermelo con un concorso perché quello che memorizzo oggi lo devo sapere anche fra un mese, fra un mese e mezzo, a dipendenza della data del concorso. E quanto frustrante è utilizzare il classico metodo in cui una persona cosa fa? Legge e ripete, anche perché dopo un po' quello che memorizza ripetendo se ne va. Pensa che è bello avere una strategia che ti consente di memorizzare riducendo il tempo di apprendimento di almeno due terzi, ma oltre a questo di ricordare nel tempo. Vi lascio alle parole di Vincenzo, sentite cosa dice, ecco qui, perché sono le soddisfazioni più belle. Vai, vai, raccontaci. Bene, bene, tutto a posto. Ho fatto l'esame, è andato anche bene. Ancora non ho la votazione, però è andato proprio bene, con i complimenti della commissione. Queste metodiche, cioè anche quello che è nella vita poi è una cosa rutinaria e quindi per certi versi noiosa e diventa invece divertente, diventa interessante. Quindi fai le stesse cose con uno spirito completamente diverso e questo fa tanto, soprattutto nel lavoro. Hai visto? È passato, poi mi ha scritto in privato, con il 30 i complimenti della commissione. Ti rendi conto davvero di quanto può valere investire in un corso di apprendimento per imparare ad imparare? Per questo ti invito a due mini corsi di due ore e mezza, un mini corso sulla memoria dove raddoppi già in una sera la tua capacità di apprendimento e un mini corso di lettura veloce dove anche lì si fa un test iniziale e un test finale dove raddoppi la velocità di lettura. Ci metto la faccia da 30 anni, quindi penso sia più che una garanzia. Ti aspetto, ciao, ciao, ciao.